La polisportiva Matese con le ragazze dell'abitue femminile è in pieno clima agonistico in mista della gara di sabato prossimo a Piedimonte contro le ragazze del Pozzuoli. Emilio Bianchi alla vigilia della gara ha parlato con Miriam Darko che si è raccontata e ha poi fatto il punto sulla prossima partita. Miriam Darko, schiacciatrice di questa squadra che sta andando oltre le previsioni. Sì, stiamo facendo il nostro, ci stiamo divertendo, ogni settimana lavoriamo su quello che ci aspetta nel weekend e stiamo dando filo da torcere anche alle prime della classe. A proposito di prima della classe, la scorsa partita avete fatto un esplorato? Sì, il lavoro fatto in palestra tutta la settimana ha reso e ha reso anche bene, siamo state concentrate durante tutta la partita e hanno peccato loro, giustamente hanno fatto un bel po' di errori che non ci aspettavamo. Noi siamo state sempre sul pezzo e siamo riusciti a portare a casa la vittoria in un campo difficile, molto difficile. Senti, tu da dove vieni? Io sono di Eboli, provincia di Salerno. E nel passato dove hai giocato? Allora ho giocato soprattutto in Campania, dove sono cresciuta pallavolisticamente nella Volley Project Ponte Cagnano e poi ho fatto qualche esperienza laziale a Sant'Elia e Molisana a Disernia. E qui a Piedimonte come ti trovi? Mi trovo molto bene, è stata una bellissima esperienza e continua ad essere una bellissima esperienza. L'anno prossimo? Finiamo il campionato e poi si parlerà e si vedrà. Come dicono tutti, però a breve ci sarà la fine del campionato. Cosa pensate di fare? Arrivare dei playoff? È ancora possibile, no? Sì, diciamo che noi lo speriamo perché alla fine arrivare e raggiungere i playoff sarebbe una cosa molto molto bella, soprattutto perché siamo comunque una neopromossa e sarebbe veramente veramente bello come obiettivo. Dobbiamo lavorare tanto in palestra e dobbiamo essere un pochino fortunati con gli altri risultati. Ecco, le ultime tre partite sembrano alla vostra portata, questo vi conforta, no? Sì, sì, questo sì. Certo non sono da sottovalutare perché comunque a Pozzuoli abbiamo perso la partita e Accademia arriverà comunque con la voglia di vincere perché deve fare i punti salvezza. Sì, però siamo positive.